Ci troviamo presso il bar e il ristorante Luppolo e Uva, qua di Via della Sud a Cazè Frentano, una cena conviviale organizzata dalla società per i ragazzi giovanissimi della categoria giovanissimi e allievi, fanno tutti insieme qua una cena augurale per l'imminente inizio di campionato, cominceranno i ragazzi dei giovanissimi lunedì in casa la prima giornata di campionato contro il Miglianico Calcio, mentre gli allievi hanno il postissimo per giovedì, giovedì a Otona contro l'Otona Calcio, per la categoria allievi Girone Chiechi, anche i giovanissimi Girone Chiechi, è una cena augurale di buon inizio di campionato, in questo gruppo sono i giovanissimi, quest'altro pure sono allievi, qua i giovanissimi, là al tavolo delle autorità c'è il mister Gabriele Di Felice, coordinatore tecnico della scuola Calcio Senore, qua c'è il nostro consigliere Adriano, adesso noi siamo tutti qua, Romassino è lo sponsor ufficiale del settore giovanile, qua abbiamo un richiede, oh dite il nome ragazzi, dite il nome Andrea, il nome, il nome di partecipi, Nicola, Pitbull, il nome di partecipi, Lorenzo, Giovanotto, il nome di partecipi, il nome di partecipi, il nome come si chiama? Guido, ecco Guido sta qua, dove abbiamo Andrea, Cristian, Amedeo, Antonio e Alessio, Manca Lazzaro, qua abbiamo Simone, Enrico, Fabio, Manuele, Alex, Emanuele, Nicola, giusto? Luca, l'altro, Luca, Alex Madamieri, Alessandro, Alex Madamieri, no, Mammarella, Mammarella chi è? Sì, a posto, nome Nicolò, Riccardo, Franco, questi sono i ragazzi dei giovanissimi, qua degli allievi e qua ancora giovanissimi misto a voi, ecco il nostro, come ti chiami? Matteo, 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 Matteo Andiamo a vedere. Ah, non mangi la natriciana? E quel che è? Le stai a tempo? Diccelo sempre quando andiamo in strada. Non vogliamo che succeda qualcosa. S'ha successo qualche volta qualche reazione allertica? Cristian, capo Ultras.